Grazie Presidente, le chiedo la parola per la mozione d'ordine per avere una chiara risalita in corso scolta. Allora ci ho capito bene, non è più, la presenza della base che usa Fadoviano non è più pericolo per la sicurezza, nel senso viene tolta dalla mozione, c'è un pericolo diffuso, non si sa da dove viene, ma non è la base, perché c'è, no fermi, perché qui c'è, io voglio chiedere perché voglio capire cosa ho fatto, perché abbiamo preso documenti diversi, due legamenti e allora si toglie una frase, sto chiedendo, la frase, la frase, la forte preoccupazione in merito alla sicurezza della cittadinanza, virgola, messa in pericolo dalla proletta della base Udras Bia Bia, viene tolta, questa frase viene tolta, questo voglio chiedere qual è il Giacomino, non è un problema suo, è un problema mio, poi voglio capire, forse è una mia ignoranza, perché abbiamo cambiato amministrazione comunale, per amministrazione comunale lo sistema di amministrazione governa, quindi il sindaco giunta, e allora perché ho fatto il sindaco che giunta, abbiamo messo l'inferenzione comunale, perché ho detto vai, o vediamo un sindaco, vi metto l'ordine del giorno, noi stessi prendiamo, e allora perché facciamo le cose che non chiedono, non chiedono? Scusate, ma quello che è spiego, per esempio, è un sindaco, o vede solo sindaco, o vede l'arministrazione del gruppo presso complesso, ma qui c'è il sindaco, il sindaco è la giunta, è, non c'è la niente, quindi è, o il sindaco, o la ministra, o vede l'arministrazione della come tutta l'arministrazione, per quello, ve lo suggerisco, sono un sindaco io, te, se non tanto, il sindaco non c'è il sindaco, oppure a scrivere solo il sindaco, ah, però è meglio, non c'è il sindaco, non c'è il sindaco, non c'è il sindaco, diciamo, qui rispetto alle predesse, rispetto a quando ero anticipato dai colleghi, è considerato in questo documento, diventa per un'azione verso il governo alla fine di manifestare allo stesso una forte preoccupazione in merito alla sicurezza della cittadinanza e del territorio, non è scritto in base a che cosa, e a chiedere di conere tale preoccupazione perché si possono lavorare insieme. Quindi il pregiudizio che questa sicurezza sia dovuta alla presenza della base italiana rimane a noi, perché viene tolto formalmente, non viene supposto perché altrimenti al rischio della sicurezza dovete spiegarvi da dove arriva. Perché se prima aveva un senso, il presupposto era secondo me, la base italiana per la presunzione che ci sia una tonica, la presunzione che posso fare. Posso parlare? Posso parlare, Presidente? Ho solo intervenuto fino adesso, avete detto di tutto e di più, parlato assoluto sopra un'altra, non posso parlare io. Un documento iniziale partiva da avere dei presupposti politici molto piani, secondo cui la presunzione rispetto all'America era lineata con una presunzione che ci siano dei segreti militari inaccessibili, con la presunzione che in questo territorio italiano si svolgono delle attività militari non in assoluto streghe di controllo italiano, addirittura più semplice sotto questo territorio possente ci qualcosa che non potranno. In base a questo, la presunzione che queste cose ci siano e poi il tuo collega dice, io ripeto di letto, inizio per la sicurezza, pertanto chiedo del prefetto Stefini affinché si sentavano e si chiariscono che si rischi per la sicurezza. L'ho compreso bene. Adesso questa cosa cambia, perché questa cosa cambia, le premesse in parte rimangono, vengono deputate e ridotte in effettivamente, quindi il significato che dovrebbe essere anche un passi termine antiamericano che finisce, però poi rimane un consenso diffuso di sicurezza ma non si capisce da dove viene. Perché nell'essere di sicurezza da dove viene? O dico, io presumo che lì sotto ci sia qualcosa, non lo dico per ritrovarti su quello, però presumo di per sé che la base, la presenza della base del piano sia un elemento di sicurezza. lo dovete dimostrare, perché io posso preguntare una dissertazione, potrei esprimere una dissertazione bruttissima dicendo che secondo me la presenza della base americana con una strumentazione alta alla difesa è un elemento di sicurezza con un ipotesi di un criminale che fa una trittata e gettarsi le botte. Quindi una sicurezza di, quei soldoni volevo dire, o si è coraggio di andare in un fondo con un documento estremamente politico e politico, o forse cercare con la mediazione insolvente, lo portano a risuovere.